Ciao ragazzi, benvenuti ancora in un nuovissimo video di Razzo Crew E oggi finalmente arrivano i Toti Mamma mia, i Toti Dall'anno scorso ragazzi, non ho trovato nulla dei Toti Giusto Mike Shosha che hanno trovato un paio Robben e Neuer Mamma mia, subito, mi ricordo ancora, come se fosse ieri Praticamente oggi infatti sono insieme a Mike Shosha e insieme a Dexter Noi abbiamo il nostro gruppo Whatsapp Che adesso ci manderemo gli audio e le foto E vediamo un attimo come procede Chi sarà il più sculato Io in questo esatto momento, che è successo? Che io ho aperto un di quei pacchetti gratis che avevo E ho trovato come prima cosa Deepai Così E lui me lo butto dell'acqua Questo, via, qua in quello, quello farlo, questo pure Ah, un altro pacchetto gratis, ne avevo due Partiamo, qua c'è già partito l'audio De Mike che già manda qualcosa Sentiamo Allora ragazzi, io ho già trovato Stavage Però c'è il resto tante cacche Quindi dai Però mi ricordo che nell'ultima battaglia di Tots Insomma, la prima volta che abbiamo fatto questo video Ho trovato Ronaldo Tots, quindi dai Boom Neuer Tiago Silva Dani Alves Sergio Ramos E Marcelo possiamo trovare oggi Quindi Chi troveremo? Chi lo sa Però partiamo prima con questo Dai Mortacci 300 Fiat Points Aladri Aladri Dai, dai, dai Mamma mia Io non mai ho DC Zapata Zapata sui piedi proprio Secondo pacchetto ragazzi Secondo pacchetto Secondo pacchetto Dai Tantissimo che non spacchettiamo E io Mi mancava Mi mancava spacchettare con FIFA Troviamo Roberto Firmino Che l'anno scorso era una pippa completa Oggi addirittura con il Liverpool gioco Capito? Asuket 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 Eccolo qua Dexter Vediamo un po' Sì, Mike Shorsha Prosciutto Bastardo Ce lo ricordiamo bene Ora parto io E ti dico che trovo nel primo pacchetto Facciamo subito adesso Uno da 3.50 Ragazzi 3.50 Buttati Subito così Mike intanto Oh, che è successo? Shurle Ah, raga Io non so trovare niente Cioè non so trovare manco Gli horrorari Eh, ma Ma è una vergogna Ora me lo apro insieme a voi Eh, pacchetto live Insieme a voi Io intanto trovo Io lo devo fare Le devo incazzare No, è ancora raro No, non ci posso credere Vaffanculo Diakite 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 Clark Rabbinio Quello scrauso Manco quello Originale vecchio Saponara Ce lo teniamo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che schifio Mike che ha trovato? Non trovo gli oro Non trovo i giocatori d'oro Non c'è pure No, c'è pure Cioè da 25.000 Con 12 giocatori Tre rari Vado Insieme Eh 350 Solo giocatori Vediamo un po' Chi troviamo Oh Attaccante Oh Lewandowski Oh Pure Piqué Lewandowski Lewandowski Ragazzi Quanto costa Lewandowski? 50 Che dici Che dici Dex Rigno Pogba Cazzo Ho trovato In pacchetto Tutti i giocatori Aprite quelli C'è Pogba Cazzo Apro un'arto Allora Tutte da 350 Vai Un'arto Da 350 Dai 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 Ma Coraro Martin Sinti Ma chi è? Ma pensa che è spigato Che fa che esulti Pogba stai nei team Of the year E ti l'hai trovato Due giorni prima che uscisse Toti Dai Mamma mia È già finito Ma chi è sta cosa Manca poco Dai 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 Terzino destro Fabinho 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 Ma chi è sta Sta rola Allora Siccome mi avete portato Tanta fortuna prima Adesso rispacchetto Un altro pacchetto Insieme a voi Vediamo un po' Eh AS Gradel Una merda Che schifio Un altro Vai Oh Mamma mia Su FIFA EA Sports ATT Oh Manzuchic Merda Merda Assoluta Nato 350 Ormai Che stanno Regà È quasi finito Quasi finito Dexter Che dici La farcia nostra Regà Io ho trovato Un riff Vaffanculo Che riff ha trovato Uuuuh Io scommetto Io aprono così Chi potessero Io non sto a trovare Un cazzo Un cazzo Ecco Ho trovato Criscito Criscito Sturaro Regà Sturaro Ecco qua Allora 350 È finito Poi Ragazzi Siamo quasi Arrivati alla fine Abbiamo finito Quasi già Tutto il credito E qua Abbiamo trovato Van Dyck Madonna Santa Regà Gli ultimi Gli ultimi Due pacchetti Faccio così Questo Da 300 E un altro Da 350 Anderson Anderson Inbula Che te se inghula Ragazzi Io già sto All'ultimo pacchetto L'ultimo pacchetto Da 350 Questo è quello Definitivo Proprio Qua se non trovo Niente Aspetta che esco E rientro Perché porca Merda Qua si trova Una beata Minchia Eccolo Vediamo un po' 350 E è finito È finito FIFA Calcola Una volta questo È finito FIFA Posso pure Stacca tutto Spaccare il televisore Io ho trovato Delf L'ho sputato pure Addosso al coso Per dirlo Delf Ma che cazzo Diamanti Vabbè regà È stato bello Vi saluto Vi ringrazio Che schifo regà Ho buttato 40 euro Sai che vuol dire Ho buttato 40 euro Guarda Vabbè Ragazzi Le ho buttati Ma le ho buttati Per farvi divertire Per farvi Almeno Sperare Di aver trovato Qualche cosa Ma non abbiamo trovato Non abbiamo trovato nulla E con questo video Con quest'ultimo pacchetto Di cacca Con Jardel Con questo pacchetto Schifoso Io vi saluto Vi ringrazio Vi do un grande Grandissimo abbraccio Lasciate però Prima 10.000 like Se volete I spacchettamenti Degli altri Toti Della settimana Quindi Della parte Del centrocampo Mike Che dice Allora lo apro insieme a voi Se gli dei Di FIFA Mi vogliono bene Adesso Fammi sei Te prego 3.50 Attaccante brasiliano Ma a parte Attaccante brasiliano Non esistono Pallo Is Antonelli No vabbè Regà Ciao Allora niente ragazzi 10.000 like Per questo video Come vi ho detto adesso Vi saluto Un abbraccio Un grande Grandissimo abbraccio E al prossimo video Ciao Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio